Una situazione definita catastrofica, quella relativa alle morti bianche, gli infortuni e le malattie professionali in Italia e in Campania. Secondo i dati nazionali sarebbero tre ogni giorno i lavoratori che perdono la vita, con una media di un incidente al minuto per un totale di 700.000 l'anno. La Campania è maglia nera al sud ed è la terza tra le regioni italiane per il numero di morti sul lavoro. Secondo gli ultimi dati dell'INAIL, nel 2022 sono stati 91 i casi di morti bianche, uno ogni quattro giorni. A questi numeri si sono poi aggiunti, sempre nel 2022, i 33.000 infortuni sul lavoro, oltre 90 al giorno, di cui quasi 26.000 nel settore dell'industria e dei servizi. Di questo bollettino di guerra e di come migliorare la sicurezza sul lavoro in Campania, partendo dagli ultimi provvedimenti legislativi regionali in materia, si è discusso al Consiglio regionale, al centro del dibattito, lavoro, qualità e sicurezza, organizzato dal PD. Il problema delle morti bianche o degli incidenti si combatte con la prevenzione e quindi a fianco a questo lavoro va fatto un lavoro soprattutto di sensibilizzazione generale, ma anche un lavoro di rafforzamento delle commissioni di controllo provinciale e soprattutto serve un nuovo patto, secondo me, tra il mondo dell'impresa, il sindacato e la politica. Con la mozione presentata in Consiglio regionale il 22 dicembre scorso, il PD ha chiesto e ottenuto la modifica della legge regionale del 9 agosto 2013 in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In particolare, l'intervento introduce la possibilità per la regione Campania di provvedere alla costituzione di parte civile e all'azione di regresso nei procedimenti penali relativi ai fatti commessi nel territorio regionale in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, destinando poi le somme percepite a titolo di risarcimento al finanziamento di azioni volte al contrasto degli infortuni e delle morti bianche. Alla tavola rotonda hanno preso parte anche numerose sigle sindacali regionali. Credo costituirsi parte civile come farà la Campania e come credo partirà a breve con questa presenza nelle aule dei tribunali sia un segno di civiltà e di democrazia che fa bene all'istituzione e fa bene al mondo del lavoro. Diventa essenziale istruire una procura speciale come c'è per l'antimafia perché poi quello che purtroppo accade molto spesso, certo il sostegno, ma molto spesso le famiglie vengono anche lasciate a se stesse e c'è bisogno di creare una giustizia giusta.